Allora, ho deciso di registrare di nuovo un pochino perché ero convinto che la Formula 1 fosse adesso, invece non lo è adesso quindi eravamo rimasti qui e devo solo guardare bene dove cavolo andare perché io non mi ricordo più Allora, dunque io qui ero nell'accampamento e quindi se è questo l'accampamento perché io non mi ricordo più una mazza ragazzi non mi ricordo più niente, boh, non lo so, non so più dove cazzo devo andare qua, minca che palle ste foreste madonna, dove devo andare qui? Andar giù di qua, boh Aspetta Non mi ricordo più, raga, non mi ricordo più, porca di quella puttana di merda Comunque se l'accampamento è questo Allora, facciamo una cosa alla volta eh No, ma non è qua Non è qua Secondo me non è qua Non è questo Non è questo Perché ci deve essere una scala da salire E io non mi ricordo più se è qua o che cazzo sia Boh Non mi ricordo più, ragazzi, non... Boh Mi sono perso Mi sono perso in questa foresta di merda E niente No, io ritorno qua, vediamo un po' Allora Dunque È un casino, porca bastarda, madosca, oh Che due coglioni però quando è così, oh Siamo usciti da quella maledetta Puntadina Abbiamo fatto il volo E poi non mi ricordo più dove sono arrivato Madonna Abbiamo fatto il volo nell'acqua Allora Siamo passati in mezzo quel cazzo di cosa di fango Siamo saliti su questa Merda qui E poi non mi ricordo adesso dove devo andare È un problema, porca troia È un gran problema adesso Porca troia Allora Vediamo un po' eh Allora Forse mi sbaglio io ragazzi Sapete Dovemmo fare il viaggio rapido E dobbiamo andare Nell'accampamento Rovine di Qualcosa con scritto Rovine Prova dell'Aquila Non c'entra niente Pista di atterraggio Rovine di Guankyaku Andiamo Rovine di Guankyaku Ecco perché non combaciava Questo Bisogna lasciarlo caricare Due balle madonna Tutte le volte Dove è sto cazzo di straccio Che mi soffio il naso ciao Fabri ciao ma guarda io ti dico che a me gli sparatutto non è che mi stanno più tanto piacendo perché li trovo obsoleti li trovo privi di aspettiamo che carichi perché no no ma non è questo sì sì è questo no 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 Grazie a tutti